Come ti chiami? Donato Verrilli Quanti anni hai? 67 Dove vivi? A Castelfrani, in Miscana, provincia di Benevento Che cosa hai mangiato a colazione? Io la mattina prima del caffè mi mangio un tarallino fatto in casa Che cosa vedi fuori dalla tua finestra? Eh, vedo un poco di azienda, ma poco, però perché ce l'ho in paese la zia Mostrami il tuo miglior sorriso Sorriso Cosa mangi? Biologico, integrato o tradizionale? Tradizionale E quanto di quello che mangi è prodotto da te? Il pane, il vino, la carne che è nostra Hai animali? Sì Quali? Abbiamo un poco di animali, la razza bruna, le brunalpine Mare, campagna o montagna? Dove vai in vacanza? A Margheriti, al mare, per i fanghi, per la saluta